Musica Ciao ragazzi, sono Infettate e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo con, sempre con Luigi Però non andremo a fare Sky Wars come nella premier di ieri Ma le Treasure Wars Allora, prima aveva fatto una partita di riscaldamento Abbiamo fatto la novantesima vittoria del Treasure Sì, sì, e mi ha regalato la novantesima vittoria Perciò siamo veramente vicini alla centesima E appena il video in cui farò la centesima vittoria Ci farò uno speciale Perché siamo veramente vicini Mi mancano dieci partite da vincere E di conseguenza l'obiettivo si sta avvicinando sempre di più Allora, no, io questa mappa la odio Luigi, lo sai Eh, questa qua è dove ho fatto la mia prima vittoria con Umberto Ah, va bene Allora, prima prendo cinque io per fare il ponte verso i diamanti E fare una piccola protezione Se no possiamo già attaccare i gold, che ne dici? Ma, ehm, cioè Però c'è molta distanza in sta mappa Sì, sarà meglio che prima ti fai il ponte Sarà prima che è meglio che facciamo il ponte Beh, intanto cerco di farmi la spada Ok, dai Se ci riesci me la fai anche a me Eh, mi sa di no Allora No, perché adesso voglio assicurarmi che loro non facciano brutte cose Sono dietro di te comunque Sì, sì, l'avevo notato Ok Allora Mi sentito Ok, quattro diamanti già Vado a fare la preda al generatore Te intanto torna a casa Fatti la spada e vediamo che cosa Come possiamo lasciarli si qua Sì, sì, mi faccio sì La spada e i blocchi Ne ho proprio dieci Preciso Ok Allora, secondo me Dovremmo fare direttamente dal collegamento dell'isola di diamanti Un collegamento verso di loro No, passiamo dall'isola di diamanti fino alla loro base Cioè a sto punto A sto punto se l'abbiamo fa Sto facendo un collegamento Sto facendo un collegamento Corri, 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 corri Sono collegati Alla vostra base Ok, meno male che te ne sei accorto Buttato giù uno Mamma, mi stavo per cadere Ok, è andato Sì, ho visto, visto Ok, lo buttavo giù uno e tu l'altro Mamma mia, mi sono salvato malissimo Madonna, ci siamo letteralmente cagati addosso Io vabbè Perché ci stavo estruggendo il tesoro No, no, questi qua sono dei nabboidi, lo sai? Eh, sì Eh, stavo per cadere una seconda volta Io mi dissocio Sì, vabbè Vabbè, mi sono fatto uccidere Sono morto però Se cerca di fare qualcosa in a te Mi stanno ammenando, mi stanno ammenando Tutti e due Non hanno la spada Hanno messo legno Sì, però ci metto un secondo 3, 2, 1 Grande Ok, no, come è possibile che non è morto Ok, manca l'ultimo Ma che so fa questo? Eh, questo qua si fu... Dai, ho fatto Quante kill sai? Eliminati subito, però Non proprio subito Perché i blue hanno eliminato i grigi prima di noi Quindi ci sta che i blue possono essere già arrivati al centro Questa cosa non mi va Vabbè, comunque io sto a 7 kill Ah, io so, io ho due, basta Cioè, ti rendi conto che tipo, ti ricordi contro i verdi? Quello là nella partita scorsa sono arrivato tipo a farmi 15 uccisioni No, ci abbiamo messo 35 ore Sì, eh Tu hai fatto i 15 uccisioni o 5 Sì Ma che punti hanno fatto? Ma che punti hanno fatto? Non hanno spade! Morto uno Ok Bye bye blue Ok Rotto il tesoro No, ok, uno ho fatto cadere Eliminato uno io e uno te Mamma mia fratia mortissima Vai, perfetto Fratia i due diamanti Aspetta Ok, i due diamanti Ho uno smeraldo io a caso Sì, sì, ok Allora, io mi faccio a full iron perché c'ho Perché c'ho già abbastanza diamanti Allora, metto gli smeraldi Mendo gli smeraldi in cesta Vai E continuiamo a fare Continuiamo a fare casino, dai Dai, già due dei suoi distrutti siamo Madonna Stiamo demolendo Sì, infatti Può essere che comunque I vicini di casa di Bro Hanno quittato Visto che erano abissi No, no No, perché c'è No, ho visto in chat Che hanno fatto proprio la final key Quindi è impossibile che hanno quittato Ok, adesso diventiamoci un pochino di Grillo Che ancora non hanno fatto il punto Sì, però io ti dico C'ho pochi blocchi Quindi Anzi, sai che provo a fare? Ah, vuoi proprio unirti così dritto I verdi e magenta Già ci stanno combattendo Ancora E sapete che tra i due litiganti il terzo gode? Adesso gli scotto i soldi verdi Vai, ti distrutto Anche il quarto Perché adesso io vado dai magenta Madonna, che casino Uh, ok Uno è andato Uno è andato Morite Ok Mi sono fatto altri due No, cavolo I magenta hanno il tesoro protettissimo Adesso sto arrivando Un verde si è messo a scappare Controllo nella nostra base, fra Ci penso io a loro Un verde è andato nella nostra base Comun verde Ma Ah, perché ancora non è No, no Eccolo verde Eccolo, eccolo Mi aspettavo avesse fatto così Lo sto inseguendo adesso il verde Infatti sa che non c'ha neanche un quale Sta rivenendo Sta rivenendo Isola di magenta Ok, è andato il verde Vai Eh, vabbè Tutti che attaccano a me Che ho fatto di male E sposta Oh Ok, grande Distruggi il tesoro Sposta di fronte Non ti metto in avanti Così che lo distruggo Per otto Ok, grande Grandi Cioè, stiamo facendo le stragi Sta partita Eh sì, io ho 16 kill Eh sì Come 16 Io ne ho 9 Sì, però attento Che l'altro magenta Sta scappando È un 8 dei tesori, fra Io ho una bassa Io ho solo quello di verde Vabbè Vabbè, ma fa niente Cioè, tanto Poi il punteggio si somma Eh, infatti Vieni qua Vieni qua Sono stato prima Vabbè Dai, come hai fatto Come hai fatto a sbagliarlo Com'è possibile Che l'hai sbagliato Il salto Eh, fra C'eri tu davanti Pensavo che Stavi saltando ora Salto come te Come uno scemo Come te Come uno scemo E esplodo La scena più brutta del mondo Nessun film No, fra Si è preso tutti quanti gli smeraldi Si è buttato nel vuoto Così che non ce li dava a noi Chi è se l'ombolo Vabbè Comunque io mi sono fatto L'armatura in ferro Fa niente Se noi non possiamo avere Gli smeraldi Immagino neanche gli altri dimmi Madonna Madonna un parto Per ammazzarli A sì magenta Veramente Eh E siamo rimasti noi E i rossi Sì Allora C'è uno C'è uno C'è uno Metti in un ender C'è uno smeraldo Se c'è Anzi no Ce ne sono già tre Ok Si si ok Allora Weapons Ok mi sono fatto la spagna in diamante Perfetto Vabbè si Io ce l'ho Adesso me la faccio in ferro Anzi Mi dai la tua in ferro Eh no Io non l'ho Io non l'ho mai avuto in ferro Ah 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 vabbè ok Dopo in casa Mi Mi Fai anche la spagna in diamante A me Però Eh Allora ti lascio due smeraldi In cassa Vabbè si fa niente Comunque Vado dei rossi Io Sembra forte Ma non lo è Eh no Mi sta ammazzando Mi sta ammazzando Quanti smeraldi ti ha dato? Sette Hai visto quello che ho visto io Ce l'hai il piccone? Eh io non ce l'ho Eh allora siamo fregati Qualcuno di noi se lo deve fare Io non posso perché non ho Oh porca miseria Su tutte le qua sopra Su tutte le qua sopra Aiuto C'ho altri cuori Eh pure io c'ho poca vita Vabbè te vai da lui No mi sono fregato da solo Fermo Aiuta che ci sono andato I soggetti il tesoro Come? No No guarda cosa devi fare Siamo rimasti noi e loro E' andato nella nostra base Frost sbritati Sto cercando di arrivare Sbritati Ma poi te dove sei? Lo stai distruggendo Eh nulla Ce l'ha distrutto Mamma mia E' inutile che sei ancora a pusharli Se muori è un casino Eh Ce l'ha distrutto il tesoro Sì in effetti Io c'ho 30 diamanti in compenso E c'ho anche altri 3 smeraldi Affinché tu ti possa fare la spagna in diamante Ce l'ho ce l'ho ce l'ho Ora me ne sono fatta Ah ok Allora eh Io c'ho già tutti i blocchi nell'inventario Di qua Dobbiamo andare a distruggere Allora fatti 3 mele d'oro E un bel modo sarebbe con le enderper Fatti 3 mele d'oro Ok vai Ok Un bel modo sarebbe con le enderper Quindi magari andiamo da loro con le enderper E li rimazziamo Allora Ok t'ho dato Sì fatti Fatti pure un enderper Ok Sì 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 Già ne ho 3 Sì allora Ultima cosa Ultima cosa Ma non per importanza Dobbiamo farci un piccone Ok Quello te lo puoi fare tu Se no ce ne facciamo entrambi va Anzi Allora Mi faccio Un piccone o un accetta Sì Piccone accetta Ma adesso sai che mi prendo Allora blocks Mi prendo più autobriger possibili Almeno Non avremo difficoltà A venire da loro Sì sì Quanto ho tutto Me ne d'oro Enderper Piccone accetta Spada Blocchi 4 stack Anche di più Nell'inventario Quindi ci siamo Non aspettiamo che si faccia Lo full diamond E andiamo subito Ok Sì andiamo adesso Andiamo adesso A questo punto Per non dire altro Sì infatti No io Io sta partita Dopo che abbiamo fatto In totale 26 uccisioni C'è veramente Io ne ho 18 tu Ah no 28 Allora io ne ho 10 Ah ok 28 uccisioni Eh I'm gonna follow you I'm gonna follow you I'm gonna follow you Whatever you want to do I'm gonna follow Ma io ho sì Tutto questo dove Non andare senza di me No ma io ho soltanto Ho soltanto scrutarlo Per il momento Eh ma ti vengono addosso Eh ma non penso Che mi vengano addosso Sai non penso Eh uno si è fatto Uno di loro si è fatto Full iron Vabbè Ti proviamo C'è C'è Uno si era mimetizzato Con la lana Non fa cavolate Uno si Uno si era messo A skin della lana rossa E si era mimetizzato Tre blocchi Ti rendi conto Ok è andato No fra io Adesso mi faccio La mela d'oro Ok Aspetta che non riesco A fare il parkour Porca miseria Ti rendi conto Si era messo a skin della Ancora Sarebbe possibile Oh ragazzi Oh ragazzi Oh ragazzi No 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 E' arrivato quello E' arrivato quello E' arrivato quello Attento Ce l'hai l'ender per le Utilizziamo l'ender per fra Eh si ma Eh si ok 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 pronto Pronto Tre due uno Via Pensa Un attimo Un attimo che ha ammazzato Il porcello Il porcello Poi Ok è andato C'era lana rossa Che era una armi Morta Ma io da una parte E tu dall'altra No 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 Attaccali Attaccali Io rompo E' quello che sto cercando di fare Non mi fa cadere Sto cercando di ammazzarli Però poi Porca miseria Porca Madonna Ok è andato No madonna C'è l'altro C'è l'altro Stress costante Eh madonna Madonna però Fammi rompere qua Ok Vedete che ci siamo vicini Si Alleluia Caduto No No come non è caduto No ma No ma hanno fatto Che mi hanno buttato giù Tranquillo Ho fatto cadere uno E l'altro Dove è l'altro Aspetta dove cavolo sta l'altro Sta No l'altro Guarda dove sta l'altro Hai visto Ah Fissi 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 Seconda ventaglia del giorno per noi Si Madonna Te quante uccisione hai fatto Non lo so Forse venti Venti si venti Io ne ho fatte Io ne ho fatte 16 Io ho 24 Madonna che partito Io ho 24 Venti Madonna 24 più 16 Eh 40 In totale 40 uccisioni in totale abbiamo fatto 40 uccisioni in totale 40 uccisioni in totale Intanto 91esima vittoria per me Intanto Io ho fatto 36 vittorie Vabbè Io ho 91 adesso so E noi ragazzi Io spero che questa Tresolos Vi sia piaciuta Madonna Partitona epica oggi Fatemi sapere se volete Altri video Eh Fatemi sapere se volete Se volete anche altri Altri video Di Tresolos Con Luigi Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Iscrivetevi anche al suo canale Iscrivetevi anche al suo canale Vi lascio il commento in primo piano Oppure lui Metterà un commento in primo piano Sotto al video Grazie Metterà un commento in primo piano sotto al video E Un commento che metterò io in primo piano Ovviamente E Vi consiglio messo a scrivere una cosa Che vittorio è una roba del genere E da lì Cliccate il pallino E iscrivetevi al suo nuovo canale Perché ne ha creato uno da poco E vi consiglio di andarlo a seguire E nulla Da Infiltrator E Luigi Cozza E tutto Ciao ragazzi Musica